Buongiorno alle raccomandazioni di Don Arnaldo, questo è un gioco, dobbiamo divertirci, non far male, tu non so se ci arriverai, ciao, ciao, ciao. Vi raccomando un grande tipo, un grande tipo, bene, il sindaco è ormai un veterano e pertanto non ha problemi, aspettiamo, aspettiamo, pronti i vostri e via con il sindaco Nardi, la griglia di patente è già stabilita, Arcensiel al primo posto, Ferrantida in seconda posizione, Terco, Arcensiel 2, con Ferrantida e VR in finale, come dire, quindi ragazzi, un grande bocca al lupo, mi raccomando, sportività è un bocca e non facciamoci male e siamo reali sotto i tuoi posti, pronti i vostri e via la 20 seconda posizione, la grande partenza, la grande partenza, attenzione alla curva, non fatemi male, e hanno visto anche quello che gli abbiamo raccontato la verità, scusa, mi scusi di gara, veniamo sgombro, veniamo sgombro, Graziano, tu segnalami, eh! Sono in diretto. Attenzione! stanno arrivando questo è il primo giro ricordo che saranno tre tornate del circuito avanti avanti il cambio per Antiga ha preso il cambio attenzione fuori dal circuito anche il cielo anche il cielo uno è un po' in ritardo forse ragazze le ragazze di Terra Antiga Girl bravissime e VR che onora la corsa io non pensavo nemmeno che arrivasca però pochissimi bravi sono i matti scatenati non è che ci vuole del fegato non è una roba così adesso prossimando vi voglio voi due sulle carioli Ariane Costanza le nuove carriera mi sbaglio sto prendendo scagliole che è oppala signori attenzione dai un po' più avanti per il cambio forza Terra Antiga e avanti attenzione la scarpa avanti signori attenzione al circuito forza forza togli la scarpa togli il filo al circuito ce la giocano per il secondo e il terzo posto in questo momento e avanti Terra Antiga gli equipaggi di Arcansiel 2 e 1 in questo caso seguono il secondo e il terzo posto attenzione che siamo all'ultimo giro per cui ecco le carioli Terra Antiga che onora come sempre la gara bravissima la signora è fortissima ragazzi fortissima non sappiamo se si sono fermati capito stanno arrivando eeeh grande tipo questi sono sportivissimi bravi ce la fanno incredibile si sono bevuti mezzo da amigiana di bianco per te li capire eeeh che l'ora che l'ora è tanto comodo è tanto comodo è tanto comodo è tanto comodo ecco ecco la e perAndiga vince la l'indicentesima di più e raccomando fuori fuori dall'arrivo fuori dall'arrivo ragazzi secondi Cuba Cargon anche un terrio ed ecco dai vicini vai forza mettiamo le mani appena arrivo i voglio caldi mi voglio caldi ne va vi vado le le vado un archie archie un grande applauso fuori dalla gara grazie io te lo faccio perfetto aspettiamole ragazze posta bravissima 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 che ha onorato quella quarta posizione aspettiamo quei matti che ha la web e qui voglio veramente che gli applausi sommergano Marignana stanno arrivando a liberare il circuito ce la fanno? mi pare di sì mi pare grazie non dite che stanno arrivando eccole lì con calma no no voi attenzione attenzione un grande applauso grazie bravissimi bravissime 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 la città quindi 3 minuti, 48 secondi e 42, noi abbiamo 3, 4 minuti, 08 e 30, quindi le VR, per Antica Girl 4 con 4, 27 e 66 e quindi le VR, grandissimi, 5 minuti, 14 e 43. Bravissimi, un grande applauso, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno alla faccia del maltempo e che ci vuole male, alla grande. Allora, in attesa delle premiazioni via e ringraziamenti di rito a tutti i nostri grandissimi volontari perché senza di loro questa festa non ci sarebbe alle champagne via, alla squadra della cucina campanata da Marilena e Carmeo, a Sanforte di domando e anche ai giovani premiatori che si sono fatti veramente onore, allo straordinario i peccini della progetta di Maurici o dei nuovi giovani volontari che tutti ci invitano, ai comandanti della piazza e ai comandanti della piazza e ai recetti e grazie a tutti i termini della nostra organizzazione, a Città Sicura, alla PN, ai parodinieri, a tutti quei che ci hanno aiutato in questa serata del passetto per noi, per noi, per noi, per il contatto, alle nuove carriole, che adesso li hanno lasciati 150 anni all'ambiente, al frízimo, al franticimo, per noi, per noi, a Città e al primo inter our pubblicità, cioè le rompre, a�� species ed ai carriole, a Città a 1 d'oro da Gossalvichi di ben campo e seguo la nostra linea gotica a Varichina e a tutti i nostri giocatori e ancora grazie a tutti voi dal primo all'ultimo scusate che mi sono scordato qualcuno e poi un grazie grande, grandissimo ancora per l'ennesima volta al nostro presidente per sempre Mauro Scalordi un applauso davvero Mauro porta un grande applauso sempre con noi tenace e capardio impareggiabile poi mi emoziono sono attorno a questa bellissima festa per la sua pazienza grazie davvero un grande applauso questi notari graziati grazie grazie a tutti i cittadini di Mariana per la mia risposta grazie grazie a tutti grazie a tutti